Traffico da Bollino Nero anche oggi lungo la rete autostradale Alto Adriatico, sulla quale si stanno riversando, oltre ai vacanzieri di rientro dalla villeggiatura, anche le nuove partenze. Esodo e controesodo. Agosto si sta confermando un mese di fuoco per chi percorre quelle tratte. Verso Trieste e anche in direzione Venezia si registrano chilometri di coda e caselli e lungo l'autostrada. In mattinata alcune code si sono formate in A4 nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova per l'ingresso in A23. La direttrice che porta verso il confine di Stato. Alle 12 il traffico in A23 risultava sostenuto in entrambe le direzioni. Situazione analoga in A57. Nessuna criticità rilevate invece in A28 e A34. In A4 invece si sono registrati in media 3.000 transiti all'ora in direzione Venezia e 2.800 in direzione Trieste. Gli ingressi ai caselli risultano complessivamente in linea con quelli rilevati lo stesso sabato del 2023, ma con un meno 7% all'Isert e un meno 5% a Villesse. In ogni caso un weekend difficile per tutti i viaggiatori, costretti a rimanere fermi o a procedere a passo duomo in alcuni tratti. Movimentato anche l'Andirivieni alla Tisana, casello utilizzato per raggiungere le località balneari come Lignano, Sabbiadoro e Bibione. Gli ingressi segnano un più 16%, 5.500 veicoli. Le uscite un più 5%, 6.000 veicoli rispetto a un anno fa. Tornando alla barriera dell'Isert, in uscita da Trieste per immettersi in direzione Venezia, a causa di un casello non funzionante, per velocizzare le operazioni, gli stessi addetti delle autostrade consegnano i biglietti a mano agli automobilisti.